Mauro Collina, presidente dell'associazione La Villetta. Che cosa vi ha spinto a promuovere l'iniziativa di stasera a Bologna? Intanto è una coincidenza, l'arrivo di Bush è veramente una coincidenza. Siamo però felici che lui venga in Italia perché avremo la possibilità sabato di spiegargli tutto il nostro dissenso nei confronti della sua politica, nei confronti delle sue politiche guerra fondaia. Il perché La Villetta, il perché la solidarietà con Cuba, credo ormai da tanti anni, e lo abbiamo dimostrato anche a Bologna, l'iniziativa di stasera in questo bellissimo posto, devo dire che in pochi forse conoscevamo ed è anche l'occasione per conoscerlo, ci dà la possibilità di parlare di Cuba, della sua storia, della sua rivoluzione, ma ci dà soprattutto la possibilità di parlare dei cinque patrioti incarcerati in questi veri e propri lager che sono le carceri speciali nordamericane. Quindi una possibilità di raccontare la loro storia, di raccontare il perché nonostante non abbiano compiuto nessun atto di terrorismo, ma anzi lavoravano per il popolo cubano per sventare attentati che la mafia cubana americana stava organizzando a Cuba e quindi un'occasione in più per riuscire a portare anche la loro voce dal momento che sono appunto rinchiusi e far uscire la loro voce da quei carceri, da quei buchi in cui sono rinchiusi. Bush renderà omaggio al Papa andando in Vaticano. Secondo te com'è possibile che il Presidente di una grande potenza inserita nel ventaglio degli Stati che usano la violenza, quale mezzo per contrastare politiche differenti dalla sua, possa venire accolto dalla sede del cattolicesimo? Credo che la Chiesa Cattolica, il Vaticano a suo modo, quindi uno Stato nello Stato che purtroppo noi oggi da sempre, devo dire non solo oggi, in Italia viviamo, di avere questa ingerenza nei problemi nelle politiche italiane. Beh è evidente che oggi la Chiesa si deve porre nei confronti di chi si sta mettendo come padrone del mondo, in qualche modo forse deve anche contrastare questo dominio. Quindi non so, si racconteranno quattro cose, parleranno di diritti umani, ma come al solito poi sappiamo come vanno a finire queste cose. Il giro che Bush farà a Roma è un giro interessante. Dalle notizie che abbiamo, beh ci sarà una grande manifestazione, quindi una presenza molto grossa nella giornata di sabato, ma sarà interessante vedere la risposta dei cittadini romani, in particolare quelli che abitano nel quartiere di Trastevere. Un quartiere che è stato ormai diventato una zona, altro che rossa, è una zona blindatissima al quale non si può accedere, se non perché mostrando documenti, insomma le cose che abbiamo un po' vissuto a Genova, ma questa volta ancora in maniera più pesante. Lì io credo che la risposta sarà interessante e peccato però ho un dubbio e lo voglio dire, la stampa, i media, cosa diranno, cosa racconteranno dell'accoglienza che i cittadini romani di quel quartiere faranno al Presidente Imperatore. E questo è il dubbio che in molti abbiamo, perché conoscendo appunto questi pennivendoli dell'informazione sicuramente crediamo che faranno finta di niente. Massimo Bellante, Vice Presidente del Comitè Internazionalista Camilo Sienfuegos. Perché questa tua attenzione rivolta a Cuba? Perché Cuba? Perché Cuba è un paese che rappresenta, come dire, in un periodo come questo, in un momento come questo, dove nel mondo succedono tante tragedie, tante situazioni complicate, dove abbiamo un'arroganza e un dominio di stati potenti. Sembra che Cuba è uno dei pochi paesi che cerca di resistere, comunque di tenere duro a dei ideali di libertà e di guaglianza, che sono un po' noi occidentali forse non riusciamo a comprendere, ma che sono fondamentali, soprattutto in America Latina. Siamo in compagnia di Claudio Coronati, che figura essere tra gli organizzatori della serata Bologna per Cuba in occasione dell'imminente visita del Presidente Giorgio W. Bush a Roma. Come mai queste iniziative? Perché proprio qui a Bologna? Ma, guarda, innanzitutto Bologna è molto rappresentativa in questo momento perché dire Bologna è dire Roma, perché Romano Prodi è di Bologna ed è al tempo stesso il nostro comandante in capo, noi italiani. Però noi che ci riteniamo più cubani che italiani, per noi il nostro comandante in capo è Fidel Castro e ovviamente Bush, per noi che di cuore diciamo siamo più cubani che italiani e comunque senz'altro non prodiani, riteniamo che la venuta di Bush a Roma in Italia, a Bologna, poi magari andrà pure a pranzo con Romano qui a Bologna, eccetera. È un'offesa alla dignità e alla sovranità del popolo italiano che lavora 365 giorni all'anno esattamente come tutti i popoli del mondo, anche quelli più sfruttati dell'italiano, per esempio Cuba che è vittima di un blocco economico, di un embargo, eccetera. Soprattutto la cosa mostruosa ci pare che si debba paralizzare un paese per l'arrivo di un criminale di guerra, di un terrorista internazionale che è Bush, che combatte il terrorismo internazionale solo quando gli fa comodo, ma ad esempio si dimentica di estraditare dagli USA verso il Venezuela il terrorista di origine cubana Luis Posada Carriles che ha ucciso un centinaio di cubani nella sua lunga carriera di terrorista internazionale e che attualmente gode della protezione del governo degli Stati Uniti. Fra i tanti omicidi commessi da Luis Posada Carriles c'è quello di un italiano, Fabio Di Celmo che venne ucciso con una bomba a Lavana, appunto sponsorizzata, pagata da Luis Posada Carriles un vecchio maiale come Bush e come il padre pure, amici di famiglia tutti quanti, pagarono un salvadoregno 4.000 dollari per mettere una bomba in un hotel Copacabana a Lavana nel 98-97 e in questa occasione, questo lo facevano per allontanare il turismo da Cuba che è la principale risorsa ormai che gli rimane dopo la caduta anche del blocco socialista e oltre all'embarco economico il bloccheo degli Stati Uniti ormai cinquantennale e allora l'obiettivo era quello di allontanare il turismo che è l'unica risorsa che mantiene in piedi Cuba economicamente e si trovò disgraziatamente in quel momento nella reception dell'hotel Copacabana un italiano, un giovane ragazzo, Fabio Di Celmo che venne colpito da una scheggia di questa bomba, C4, a base di C4 che lo colpì alla giugulare e lo fece morire di sanguato nel giro di due minuti Cosa ne pensi della vista di Bush alla comunità di Sant'Egidio, associazione dichiaratamente pacifista? Ma guarda a me basta e avanza aver visto e filmato all'interno dell'associazione Sant'Egidio appunto a Trastevere sette anni fa l'unico sopravvissuto della spedizione in Bolivia del CE Benigno, di cognome Alarcon, il nome di battaglia, non è l'unico sopravvissuto della spedizione in Bolivia è l'unico fra i due o tre sopravvissuti della spedizione del CE in Bolivia che ha tradito la rivoluzione cubana e venne ospitato proprio dalla comunità di Sant'Egidio a Trastevere e noi lo andammo a filmare spacciandoci per giornalisti freelance e mandammo il filmato in giro per il mondo a dimostrare che Benigno era insieme alla comunità di Sant'Egidio un agente della CIA Ci puoi raccontare qualcosa a proposito della questione dei cinque dissidenti cubani situazione riportata da parecchie testate giornalistiche proprio in questi ultimi giorni? Sì, soprattutto questo dibattito a liberazione su liberazione una giornalista di rifondazione comunista Cinzia Nogioni che non scrive male ed è comunque va detto che per onestà intellettuale un giornalista deve fare il proprio lavoro parlare anche male di un posto non solo delle cose buone ma lei va andata a cercare solamente cose negative e fra queste, come sempre, quando vanno a Lavana questi giornalisti che cercano notorietà, pubblicità, eccetera vanno cercando i cosiddetti dissidenti cubani bene, i dissidenti cubani in confronto ai dissidenti italiani che sono migliaia ancora in carcere non dimentichiamoci che ci sono ancora 200 prigionieri politici in Italia e che in Spagna ce ne sanno 600 o quasi 800 non necessariamente colpevoli di delitti di sangue ma anche per delitti di opinione beh, se Cuba, che è un piccolo paese anche Cuba in carcera ogni tanto e poi non è che fanno una brutta vita in carcere forse la fanno meglio di quello che la fanno fuori perché fuori sarebbero presi allinciati moralmente dal popolo cubano che nella stragrande maggioranza appoggia la rivoluzione e odia chi disconosce i meriti di questa rivoluzione e della dignità che ha restituito Fidel e la rivoluzione cubana al popolo cubano con quella rivoluzione piena di contraddizioni ok, però allora questi dissidenti diciamo chiamiamoli così è ovvio che ci stanno anche a Cuba allora vogliamo dire una cosa non c'è democrazia a Cuba? va bene, io sono un giornalista che ha visitato Cuba 25-30 volte ho intervistato Fidel Castro tre volte ebbene più di Oliver Stone e Gianni Minà che l'hanno intervistato due volte anche se io le mie ero brevi sono amico di Cuba morirei per Cuba però vuoi che ti dico la verità? Cuba non è democratica no Cuba è una dittatura però del popolo del proletariato così come questa è una dittatura della Borghesia l'Italia che è una dittatura Grazie.